Dieci anni fa, epoca prima della crisi, i poveri assoluti in Italia, quelli che non riuscivano neanche a comprare le cose necessarie per una vita dignitosa, erano circa 2 milioni e 300 mila, il 4,1% della popolazione. Nel 2013 siamo arrivati al record assoluto, 6 milioni e 20 mila persone, il 9,9%. Uno su dieci, possiamo arrotondare, non ce la fa. E le famiglie in questa condizione continuano ad aumentare, soprattutto nel mezzogiorno, dove hanno raggiunto ormai il 12,6% del totale. Ma si può anche essere, per usare il linguaggio del documento Istat di oggi, poveri relativi. Si tira avanti, insomma, in qualche modo stringendo i denti, ma si resta comunque sotto la media delle spese degli altri. In questa condizione, oggi nel nostro paese, ci sono 10 milioni e 48 mila persone, distribuite in 3 milioni e 230 mila famiglie. Per avere un'idea più concreta di cosa significhi essere relativamente poveri, c'è una cifra di riferimento ed è questa, 972,52 euro al mese. Se una famiglia di due persone non riesce a disporre di questa cifra, i suoi componenti rientrano tra i poveri relativi. Rispetto all'anno precedente, cioè rispetto al 2012, l'Istituto di Statistica rileva che sono aumentati i poveri tra le famiglie con figli, soprattutto se almeno uno è un minore. La percentuale di bambini e ragazzi sotto i 18 anni in povertà assoluta continua ad aumentare ed è arrivata nel 2013 al 13,8% del totale. E sono sempre più poveri anche i vecchi, soprattutto se vivono con un altro anziano. La povertà è più diffusa, dove i capi famiglia hanno un titolo di studio medio-basso, sono operaio, sono in cerca di occupazione. Il picco della povertà relativa si registra in Sicilia e in Calabria, dove è in difficoltà una famiglia su tre. La povertà morde meno invece a Bolzano, dove tocca solo il 5% dei nuclei, in Emilia-Romagna il 5,9%, il 7% in Toscana e nella provincia di Trento.